Il progetto Decca Rota 2019 mi vede coinvolto come violinista in questa monografia su Nino Rota. Presentiamo il lato meno conosciuto di Rota, ma di grande valore musicale, da che il pubblico conosce ovviamente le musiche da film appartenenti alle colonne sonore dei film di Visconti e di Fellini. Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Nino Rota. Erano gli anni Sessanta, suonavo spesso con Severino Gazelloni. Mi ricordo che parlò anche dei suoi rapporti, dei problemi relativi alla collaborazione con registi come Visconti, come Fellini, e disse delle cose con grande semplicità, senza retorica, ma verissime, e non le dimenticherò. Gli elementi che uniscono il compositore sono la semplicità nel portare melodie arcaizzanti con temi neomodali. Gli elementi che uniscono il compositore sono la semplicità, ma verissime, e non le dimenticherò.